Buongiorno a tutti, sono Francesca Carnevali del Laboratorio Aperto di Modena e sono molto contenta di darvi il benvenuto a questo primo incontro di questo ciclo di webinar sul diritto informatico che abbiamo chiamato Privacy e sicurezza sul web. Il ciclo è organizzato da noi Laboratori Aperto di Modena in collaborazione con Colleen & Partners e si comporrà di 10 incontri in tutto, 5 organizzati dal Laboratorio Aperto di Modena e 5 dal Laboratorio Aperto di Piacenza, sempre in collaborazione con Colleen & Partners. Rubo giusto qualche minuto per presentarvi appunto il progetto dei Laboratori Aperti che sono un progetto della Regione Emilia-Romagna realizzato con il contributo delle amministrazioni locali e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Sono 10 luoghi fisici nelle città principali dell'Emilia-Romagna e sono centri di innovazione che fungono appunto proprio da centri per l'educazione e la diffusione delle nuove tecnologie. Questo incontro è organizzato appunto dal Laboratorio Aperto di Modena che si trova nell'ex centrale M, un edificio riqualificato dal Comune di Modena e è un luogo di incontro, di confronto e di promozione proprio del ruolo delle nuove tecnologie che le nuove tecnologie possono avere sulla trasformazione sociale ed economica. In questo ambito crediamo sia importante non solo capire l'applicazione delle nuove tecnologie ma anche le loro regole di funzionamento e la cornice normativa in cui esse si collocano. Quindi per questo motivo abbiamo realizzato questo ciclo di incontri con Colleen & Partners per approfondire con dei veri esperti tutti i dettagli su varie tematiche di questo tema. Questo ciclo si colloca appunto nelle attività del Laboratorio Aperto che organizza oltre a corsi di formazione per professionisti anche altre attività come eventi, workshop e laboratori territoriali. Questo appunto è il primo ciclo, parleremo di Privacy Shield tra gli altri temi ci saranno anche l'intelligenza artificiale Internet of Things e altri interessanti argomenti. Io lascio la parola all'avvocato Frediani fondatrice e general manager di Colleen & Partners che vi presenterà anche un po' appunto chi sono e come hanno ottenuto il loro ruolo, insomma, il loro importante in questo ambito. Grazie mille, prego. Va bene, grazie mille. Condivido lo schermo in modo da passare subito alle slide e alla presentazione. Allora, buongiorno a tutti. Avvocato Valentina Frediani, Colleen & Partners. Ehm, brevemente vi presento la nostra, la nostra struttura. Ehm, la nostra azienda si occupa di consulenza in materia di diritto delle nuove tecnologie. Quindi tutto ciò che afferente il, il diritto rispetto all'ambito tecnologico, non solo da un punto di vista contrattualistico, ma anche di privacy, di tutela delle informazioni, proprietà intellettuale, digitalizzazione e siamo l'unica azienda europea ad aver certificato una metodologia per validare la conformità degli applicativi e dei software a quello che è il regolamento europeo. Visto che sulla base di un principio di accountability è onere del titolare, o che comunque realizza l'applicativo e il software, dimostrare che c'è una conformità rispetto alle regole imposte dal regolamento. Stamani di che cosa parliamo? Stamani parliamo del privacy shield, quindi di una recente sentenza che da quest'estate, diciamo, ha creato non pochi problemi alle aziende rispetto alla possibilità di trasferire i dati verso gli Stati Uniti, ma non solo, perché vedremo infatti perché questa sentenza di cui andremo a parlare condiziona sostanzialmente tutti i trasferimenti fuori dall'ambito europeo e lo affronteremo prima di tutto da un punto di vista normativo, quindi cercando di capire sulla carta che cosa è previsto, e poi da un punto di vista pratico per come andarlo ad affrontare in questa fase in cui ancora molti parametri non sono stati definiti. Allora, innanzitutto, quali sono le regole per il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea? Allora, voi sapete che il nostro regolamento disciplinante ai dati a livello europeo in vigore dal 2018 prevede sostanzialmente che i dati personali possono circolare all'interno dell'Unione Europea in quanto tutti i paesi indistintamente trattandosi di un regolamento sono sottoposti alle stesse regole imposte dal testo normativo stesso, mentre nel caso in cui vi sia un trasferimento fuori dai confini europei devono essere fatte delle verifiche preliminari rispetto alle misure adottate non solo a livello di sicurezza informatica ma anche di garanzie nei confronti dell'interessato dal paese che va ad ospitare i dati o presso i quali i dati sono in transito. Ricordiamoci quindi che quando parliamo di trasferimento dei dati noi parliamo di una accessibilità dei dati da parte di soggetti che non risiedono sul territorio europeo, dati che fisicamente vengono posizionati su server, su macchine, e quindi trattati fuori dai confini europei. Poi ci sono delle regole che variano perché a seconda dei paesi di destinazione dei dati possono esservi degli accordi di reciprocità e quindi per similitudini di quelle che sono le normative sono degli accordi tra gli stati che in qualche maniera vanno a compensare l'assenza di una normativa uguale e vengono poste delle regole anche di natura contrattuale tra le parti o comunque dei punti sui quali ci si dà reciproche garanzie come era di fatto con gli Stati Uniti e ora andremo a vedere questa sentenza che tipo di impatto ha avuto ci sono dei paesi con cui non sono in essere degli accordi di reciprocità e allora bisogna rifarsi completamente a quelli che sono degli accordi contrattuali tra le parti in modo che la parte europea possa portare dentro al contratto tutte quelle garanzie che comportano comunque un rispetto del testo normativo europeo stesso quindi a livello di misure organizzative, di misure di sicurezza di rispetto di quelli che sono i diritti dei soggetti interessati in sostanza noi possiamo all'interno dell'Unione Europea trasferire i dati fuori dall'Unione solo laddove vi siano delle garanzie precise ed espresse dettate rispetto a quello che è il regolamento europeo stesso quando parliamo di trasferimento non pensiamo soltanto a un trasferimento definitivo di un dato da un punto di vista di collocazione fisica perché ci possono essere anche dei dati in transito a livello di backup, a livello di servizi anche operazioni momentanee nel momento in cui i dati vengono trasferiti fuori dall'ambito europeo comunque devono sottostare a determinate regole quindi se io comunque utilizzo ad esempio una piattaforma di scambio di dati che però risiede fuori dalla comunità europea anche per quell'ambito temporale ristretto necessario per poter effettuare lo scambio comunque devo garantire che siano rispettate determinate regole questo rispetto è importante perché perché una violazione può comportare delle responsabilità di natura civile ma può trasformarsi anche in una violazione di un trattamento illecito del dato quindi è un onere del titolare del trattamento verificare preventivamente laddove vi siano delle operazioni di trasferimento, di transito quali siano i paesi di destinazione in modo da poter porre in essere una verifica preliminare e capire quali regole devono essere in qualche maniera imposte laddove il trasferimento di transito sia attuato questa è la regola generale quindi teoricamente queste sono le attività che devono essere svolte teoricamente vedremo praticamente comunque questo è il riferimento normativo che cosa è successo a luglio a luglio è successo che un cittadino austriaco utente di Facebook che non è un cittadino qualsiasi perché comunque è il presidente di un'associazione dei consumatori che già nel tempo diciamo ha fatto più di una battaglia ha portato avanti più di una battaglia in questo ambito sostanzialmente ha presentato un reclamo davanti all'autorità privacy irlandese che dobbiamo dire essere molto attiva è una tra le autorità più attive dal punto di vista europeo molto sensibili al tema della privacy contro Facebook irlanda perché sostenendo sostanzialmente che dall'irlanda i dati pubblicati, presenti, comunque residenti depositati su Facebook venivano comunque inviati a società nel caso Facebook Inc. con sede negli Stati Uniti con una mancanza del rispetto di regole compatibili con il regolamento europeo allora come vi dicevo prima fino al luglio del 2020 il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti era comunque coperto dal cosiddetto privacy shield accordo di reciprocità che ultima versione perché antecedentemente qualche anno prima avevamo i safe harbor ovvero degli elementi di riferimento sulla base del quale venivano disciplinati dei trasferimenti verso gli Stati Uniti con delle garanzie apposite prestate e preventivamente stabilite da paesi stessi per poter garantire l'applicazione della normativa chiaramente privacy shield intervenuto con l'entrata in vigore del regolamento europeo obbligatorio a confrontarsi ai principi del regolamento europeo allora questo signore austriaco che cosa ha lamentato nel reclamo presentato all'autorità irlandese sostanzialmente lo ha rappresentato che mentre nel regolamento europeo l'interessato cioè colui che rilascia i propri dati al titolare del trattamento ha tutta una serie di diritti dei quali deve godere cancellazione, modifica, accesso sapere e conoscere la filiera dei soggetti che possono entrare in contatto con i propri dati una volta che questi dati vengono trasferiti verso gli Stati Uniti cadono completamente queste garanzie perché sussiste la possibilità per le agenzie governative statunitensi di poter accedere anche ai dati solo in transito verso gli Stati Uniti senza che vi sia alcun tipo di controllo giudiziario quindi in maniera arbitraria per come sono impostate le norme negli Stati Uniti e per come sono impostati i poteri negli Stati Uniti non consentendo quindi all'eventuale cittadino europeo che volesse comunque far valere i propri diritti né di conoscere chi può aver avuto accesso in trasparenza ai propri dati né di poter esercitare evidentemente dei diritti perché comunque un diritto alla cancellazione un diritto all'oblio un diritto al do a quattro sono inesercitabili laddove intervengono delle autorità governative l'evento ovviamente di sofferenza evidenziato in questo reclamo è più che legittimo ed era tra l'altro un elemento che già era emerso anche negli anni precedenti e già era stato chiesto di apportare dei correttivi in questo senso al paese ricevente e questa sentenza ha stabilito che effettivamente vi è una violazione di quelli che sono i principi del regolamento europeo nel momento in cui si trasferisce verso un paese che nel caso di strage sono gli Stati Uniti dei dati senza che vi possano essere questa trasparenza e esercitabilità dei diritti da parte dei cittadini europei a luglio 2020 in sostanza con la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea ritenuta sussistente fino a quel momento nel trasferimento dei dati della seguità e chiaramente questo ha aperto una crepa abnorme nei rapporti verso gli Stati Uniti ma non solo perché ha rievidenziato un principio sulla base del quale io, titolare europeo che trasferisco dei dati verso paesi extraeuropei se non ho a priori delle garanzie con una identificabilità dell'esercizio degli stessi diritti che il cittadino europeo potrebbe comunque far valere in Europa non posso effettuare il trasferimento quindi noi parliamo di una validità dei privacy shield e ci concentriamo in questo momento su questo principio ma va da sé che se penso ad altri paesi potrei pensare alla Cina meno che mai probabilmente ho la possibilità di capire e tracciare quali esercizi siano esercitabili ed effettivamente se ci sia una trasparenza su quei soggetti anche di natura governativa che possono accedere ai miei dati quindi è logico che questa è una sentenza che apre, rende molto frustrante l'efficacia di un regolamento europeo laddove vi è un'evidenza che fuori dai confini questi diritti non siano rispettati ora vediamolo ovviamente da un punto di vista delle conseguenze perché? Perché nell'andare a dichiarare questo la Corte di Giustizia Europea che cosa ha posto sul tavolo per le aziende e gli enti pubblici a livello europeo fermo restando che il trasferimento può essere eseguito laddove comunque vi siano degli obbligi ovviamente normativi e laddove comunque vi sia un consenso di interessato e in sostanza le aziende europee si sono trovate per dover rispettare questa normativa a dover interrompere qualsiasi flusso verso paesi non garantisti questo sia da un punto di vista dei rapporti business to business quindi anche trasferimenti di dati tra aziende laddove comunque vi è un trasferimento del dato personale che potrebbe essere un dato del dipendente un dato identificativo di un cliente anche se posizionato all'interno di un rapporto business to business la non fruibilità di servizi con trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti ad esempio noi abbiamo avuto clienti che hanno interrotto servizi erogati tramite piattaforma anche per la formazione perché comunque l'iscrizione avveniva su piattaforme statunitensi con l'invio dell'elenco di tutti i partecipanti nominativi dei partecipanti verso gli Stati Uniti piuttosto che appunto scambi di dati e di informazioni su piattaforme non europee senza che venissero prestate determinate garanzie e da nulla vale e questo è bene ancora una volta evidenziarlo perché ho sentito nel tempo anche alcuni giuristi dire vabbè però se contrattualmente andiamo a stabilire che certe garanzie vengono prestate allora si può superare anche questa sentenza in realtà non è vero perché le parti contrattualmente possono stabilire quello che vogliono ma poi se di fatto delle autorità governative possono indistintamente accedere a quelle informazioni a quei dati è ovvio che la volontà contrattuale è completamente nulla quindi non c'è un'efficacia sostanziale di poter superare quella accessibilità da parte delle autorità governative perché non è un qualcosa che sia nel potere delle parti contrattuali quindi avere anche delle clausole contrattuali efficaci comunque non darebbe una tutela sostanziale alle informazioni tradotto finché non verrà messo mano a delle normative statunitense che diano queste garanzie dal punto di vista europeo si pongono comunque dei problemi chiaramente noi stamani andremo a vedere anche quali possono essere delle soluzioni delle proposizioni che possono essere fatte per superare questa problematica da un punto di vista normativo e di responsabilità dei soggetti che questo trasferimento ovviamente vogliono andarlo a porre in essere allora in questo stadio per cui abbiamo una sentenza la quale ha stabilito la non legittimità di trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti laddove manchino delle garanzie e che chiaramente ha aperto comunque un indiscutibilmente una impossibilità di trasferimento verso tutti quegli altri paesi nei quali non vi siano delle garanzie del rispetto dei diritti degli interessati da un punto di vista di esercitabilità e di trasparenza della filiera dei soggetti che possono accedervi quindi quali sono le conseguenze? allora intanto tutti quei trasferimenti che nel tempo sono stati basati sull'adesione del fornitore statunitense al Privacy Shield sono comunque trasferimenti che non sono tutelati sufficientemente vi ricordo Privacy Shield accordo di reciprocità fornitore statunitense fino a luglio 2020 aderendo ai principi di reciprocità stabiliti appunto dai due paesi sostanzialmente garantiva di dare tutta una serie di tutela di livello paritetico a quella prevista da regolamento europeo chiaramente anche trasferimenti basati su clausole contrattuali anche standard non possono più essere considerati come in grado di offrire delle garanzie sufficienti perché a prescindere che si applichino poi queste garanzie se poi le autorità governative possono accedere evidentemente non sono garanzie reali il terzo punto è quello relativo alle banche in corporate rules cioè il regolamento europeo prevede ma lo prevedeva già anche la direttiva alla quale avevamo aderito quindi quella normativa con il decreto 196 che all'interno dei gruppi potessero essere stabilite delle regole a fattor comune anche se le aziende appartenenti al gruppo fossero state dislocate non solo a livello europeo ma anche extraeuropeo sulla base delle quali stabiliti delle regole compatibili e nel totale rispetto del regolamento europeo anche per le aziende aderenti fuori dal contesto europeo i dati sarebbero potuti essere trasferiti le banche in corporate rules hanno avuto un ruolo essenziale nei gruppi fino a luglio 2020 perché? perché stabiliti dei parametri nel rispetto al regolamento europeo hanno consentito il trasferimento dei dati dei dipendenti dei fornitori la possibilità di andare a condividere anche progettualmente delle informazioni dei dati personali a livello extraeuropeo perché comunque tutti appartenenti hanno una stessa grande famiglia appunto in gruppo con delle regole comunque in grado di far rispettare quelli che potevano essere i diritti esercitabili da ogni singolo soggetto oggi neanche le banche in corporate rules sono valide per lo stesso motivo per cui non si può ritenere valida la clausola contrattuale standard inserita a tutela dei dati del cittadino europeo perché come rispetto al contratto possono accedere le autorità governative a quelle informazioni senza che probabilmente nemmeno se ne possano accorgere eventualmente le aziende interessate lo stesso all'interno delle banche in corporate rules perché se io sono un'azienda statunitense che sia la controllante verso il paese europeo o sia semplicemente una controllata dal paese europeo ma presso di me risiedono dei dati di cittadini europei che possono essere appunto dati dei dipendenti perché operativamente distaccati o perché comunque vengono fatte delle azioni a livello della serie statunitense piuttosto che una condivisione di dati ad esempio per finalità di marketing da parte degli Stati Uniti rispetto a quelli che sono i clienti finali collocati a livello europeo non sono più coperti da le vanno in corporate quindi qualsiasi trasferimento risulta illegittimo non può essere legittimamente effettuato come potete capire l'impatto non è banale qualsiasi azienda oggi piccola o grande che sia ha rapporti con gli Stati Uniti banalmente per piattaforme appunto di condivisione delle informazioni di scambio magari perché vengono acquisiti dei software dei servizi che riguardano anche l'invio di newsletter a livello di marketing a livello di backup di recupero dei dati perché comunque nel cloud alcuni servizi sono previsti dell'esternalizzazione sono previsti comunque delle allocazioni dei dati fuori dai confini europei ebbene che cosa è successo abbiamo avuto un periodo di blocco totale da un punto di vista di assenza di una presa di posizione normativa e le aziende e qualsiasi titolare del trattamento aziende ma anche pubbliche amministrazioni insomma trattiamo principalmente delle aziende per gli obvi motivi a livello massivo di trasferimento dei dati avrebbero dovuto con l'emanazione della sentenza di luglio 2020 stoppare completamente qualsiasi trasferimento che di fatto così non è avvenuto perché noi abbiamo assistito i clienti e ora vedremo anche con quale metodologia oggi ci richiede il board europeo che ha emanato comunque nel frattempo una raccomandazione importantissima alle regole da seguire ma dal punto di vista pratico teoricamente si sarebbero dovuti interrompere qualsiasi trasferimento verso gli Stati Uniti e verso altri paesi europei ma da un punto di vista pratico applicativo ciò avrebbe inficiato delle problematiche di natura di servizi e quindi di efficacia magari anche della funzionalità delle attività delle aziende stesse avrebbe comunque provocato delle conseguenze da un punto di vista contrattuale perché comunque ci sono degli impegni ovviamente nei confronti dei soggetti verso i quali magari determinati dati venivano trasferiti per ottemperare una prestazione dei servizi quindi si è creato un momento di caos totale che cosa è successo? è intervenuta in autunno la raccomandazione uno del 2020 che cosa ci dice? ci dice in qualche maniera porta e supporta le aziende in un iter logico di valutazione di quelli che possono essere gli step per andare a comprendere effettivamente quali trasferimenti possono essere effettuati o meno o quali misure possono essere adottate laddove comunque il trasferimento in chiaro dei dati non potesse essere posto in essere allora intanto ci dobbiamo porre un problema ovviamente vedete anche nelle slide relativo non solo a un trasferimento diretto ma anche un trasferimento dei dati una disponibilità dei dati verso un nostro fornitore europeo il quale però sia vale di un sub fornitore quindi di un sub responsabile extra europeo a tal proposito vi ricordo che c'è un obbligo nel regolamento europeo che impone al nostro fornitore responsabile del trattamento dove la responsabilità significa che abbia un dominio del che è limitato su quelli che sono i dati a livello di sicurezza gestione trattamento di dire in trasparenza chi sono i soggetti sub fornitori e quindi sub responsabili che possono in qualche maniera partecipare al trattamento sia a livello appunto anche qui di trasferimento di sicurezza di protezione piuttosto che di azioni dirette di trattamento del dato sui dati dei cittadini europei quindi se io ho comunque un fornitore che si trova sul territorio europeo ma si avvale di sub fornitori vi è primariamente un obbligo da parte del fornitore di dirci chi sono questi sub fornitori e dove sono allocati i dati laddove i sub fornitori siano allocati fuori dal territorio europeo evidentemente devono essere prestate le stesse identiche garanzie che dovrebbe prestare un fornitore che direttamente presta fuori dal territorio europeo e dall'altra parte il titolare del trattamento deve assolutamente assumere le stesse misure di attenzione come andremo a vedere e anche di sicurezza che avrebbe adottato laddove si fosse trovato davanti direttamente un fornitore extra europeo quindi questa è un'attenzione importantissima da prestare ricordiamoci che il legislatore richiede anche un monitoraggio periodico di questi trasferimenti quindi teniamo presente che se oggi andiamo a implementare o ragionare comunque su un progetto anche di natura informatica di acquisizione di un servizio dobbiamo ragionare se effettivamente c'è un trasferimento dei dati a livello di extra europeo o meno perché comunque dovremmo adottare tutta una serie di garanzie ma entriamo nella specificità di quelle che possono essere sostanzialmente le misure da andarsi adottare allora laddove io non abbia una prestazione del consenso e quindi un consenso espresso del soggetto interessato dovrò comunque o rivolgermi all'autorità garante chiedendo quindi di avere una valutazione per non interrompere il trasferimento rispetto a quello che può essere il trasferimento stesso quindi se si decide di procedere andando alla comunità dal garante oppure adottando delle misure e ora entreremo nel merito di quelle che possono essere delle misure di sicurezza mediante le quali io posso comunque continuare ad effettuare il trattamento fuori dai confini europei senza che ne possa venire eccepito una violazione di quelli che sono i principi del regolamento europeo dicevamo entriamo nel merito allora la raccomandazione di cui abbiamo accennato è la raccomandazione uno del duemilaventi che ci dice diciamo ci dà degli step operativi su come andare a valutare quelli che possono essere le modalità di individuazione dei trattamenti presenti rispetto alla mappatura dei dati fuori dai confini europei e delle azioni che dobbiamo andare ad adottare allora è chiaro il primo step è quello fondamentale cioè di cosa stiamo ragionando se non abbiamo mappato e non sappiamo quali sono i trattamenti fuori dai confini europei questo ci serve perché indubbiamente per avere una fotografia anche del rischio rispetto alla titolarità del dato da un punto di vista cioè come legale vi dovrei dire vabbè ma se anche comunque un dato personale è Valentina Frediani che viene trasferito negli Stati Uniti è già una violazione che viene posta in essere laddove non ci siano le garanzie però è anche chiaro che vi è una variabile di rischio se il dato di Valentina Frediani è perché si è iscritta a un webinar che viene tenuto su una piattaforma allocata negli Stati Uniti diverso il rischio è se il dato sanitario gustosessuale di Valentina Frediani viene trasferito negli Stati Uniti evidentemente c'è un approccio una valutazione del rischio molto diversa poi sulla carta la violazione è esattamente la stessa perché il titolare del trattamento non può fare un trasferimento fuori dal confine europeo da questo punto di vista senso ovviamente un consenso espresso piuttosto che le regole che andremo a vedere comunque la mappatura è fondamentale una mappatura che deve anche valutare se effettivamente i dati che vengono non solo quali dati vengono trasferiti se c'è questo trasferimento quali dati vengono trasferiti ma se quei dati trasferiti è veramente necessario trasferirli perché io potrei avere la necessità e questo succede molto spesso all'interno dei gruppi che hanno adottato le bandi in corporate rule di trasferire effettivamente delle informazioni fuori dai confini europei ma magari le sto trasferendo in un livello di dettaglio che consente una identificazione dei soggetti interessati quando in realtà magari fuori dal confine europeo rileva il dato a livello statistico il dato aggregato senza la necessità di poter dare una chiave di lettura di appartenenza di quel dato a Mario Rossi Valentina Frediani o comunque l'identificabilità dell'appartenenza del dato quindi questo è un primo step da verificare tant'è che appunto ci dice la raccomandazione di andare a verificare che i dati trasferiti siano adeguati pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario questo tema della necessarietà nonostante sia un principio che già resideva nella normativa 196 è un tema è un sempre perde perché è una difficoltà una difficoltà oppure una trascuratezza una superficialità che molto spesso viene utilizzata dalle grandi e dalle piccole aziende perché si tende a inserire tutti i dati in un calderone cioè ad avere più dati possibili che poi magari non faranno parte neanche mai di un'analisi o lo faranno parte in maniera relativa senza razionalizzare quello che può essere effettivamente la necessità esercitabile rispetto ad avere in chiaro ed avere ricollegabile a quel dato quindi questa è una prima operazione mappatura dei trattamenti poi vanno verificate le basi del trasferimento cioè se io ho basato fino ad oggi e dovrei dire a luglio del 2020 ma diciamo fino ad oggi il trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza quindi su un privacy shield oggi quel privacy shield non ne è più valido quindi dovrò andare a verificare se comunque questo trasferimento io lo devo fare sulla base di una normativa preesistente oppure questo trasferimento io non lo posso più fare perché non c'è una normativa specifica che me lo imponga perché comunque non è più valido un privacy shield poi dovrò andare a fare la verifica verso lo stato di trasferimento quindi dovrò valutare perché questa è una raccomandazione che fa riferimento ai trasferimenti e a questa in generale se il paese di destinazione abbia comunque una legge una prassi o comunque delle norme che pregiudicano l'efficacia delle garanzie previste dal nostro regolamento europeo perché se c'è questo pregiudizio e molto può fare riferimento al tema dell'esercizio dei diritti ma anche alla valutazione delle misure di sicurezza ma anche all'eventuale segnalazione ad esempio di brice che è un altro tema molto importante e che deve restare di dominio del titolare del trattamento che trasferisce i dati altrimenti i soggetti interessati saranno sempre esposti in maniera incontrollabile anche a eventuali brice fuori dal territorio europeo chiaramente devo fare la verifica dello stato di destinazione e valutare anche vedrete e vedete in queste slide ricorre spesso un termine della rivalutazione periodica cioè andare a valutare con una certa periodicità cadenza se effettivamente quelle regole che sono state affrontate quella normativa esistente nel momento in cui ho effettuato il trasferimento del dato è ancora vigente periodicamente o se ci sono delle modifiche che possono avere un'incidenza sulle garanzie che devono essere prestate nei confronti dei dati poi si potrà mandare ad adottare delle misure supplementari cosa vuol dire misure supplementari cioè laddove io non abbia le garanzie specifiche della normativa del paese di accoglienza diciamo del dato potrò andare a fare delle valutazioni di natura tecnica sul dato di natura contrattuale di natura organizzativa e dovranno essere delle misure supplementari talvolta anche conviventi perché dove io non ho una normativa potrebbero entrare in gioco anche delle prassi organizzative vi faccio un esempio allora dal punto di vista della misura tecnica nella raccomandazione troverete ad esempio un tema di cifratura crittografia perché troveremo questo tema perché il legislatore ragiona dicendo se comunque viene fatta questa locazione del dato verso un paese extraeuropeo che non presti le garanzie previste dal regolamento europeo ma poi il dato in chiaro è visualizzabile quindi leggibile accessibile soltanto attraverso una chiave crittografica detenuta nel paese europeo e quindi non assolutamente accessibile anche laddove vi sia un'intercettazione un accesso dell'autorità governativa io ho di fatto una protezione e questa protezione anche se poi il dato fisicamente risiede su quel all'interno di quel paese è una protezione sufficiente per evitare che quell'autorità governativa venga a conoscenza del dato indebitamente rispetto alle garanzie prestate da regolamento europeo ora questa è una misura tecnica è una misura di sicurezza ma se questa misura ad esempio non è prevista all'interno di un contratto quindi io non chiedo al mio fornitore di prevederla all'origine del trasferimento del dato non è prevista a livello organizzativo perché magari non è previsto che nel caso in cui vi siano ad esempio degli attacchi dei breach e una pericolosità rispetto a poter andare a leggere in chiaro quei dati non è prevista una procedura di notifica verso il titolare del paese europeo va da sé che la misura tecnica da sola potrebbe non essere sufficiente quindi si rende necessaria anche una regia da un punto di vista valutativo di quelli che possono essere gli elementi che entrano in gioco rispetto a una protezione che deve essere sostanziale non formale ecco perché dico negli ultimi mesi ma soprattutto quando è uscita la sentenza noi abbiamo visto arrivare tantissimi contratti da parte dei clienti dove eravamo di più non eravamo di più dicendo vabbè però la garanzia me la dà il fornitore a me può alla fine che mi frega di lui che ve lo garantisce io sono malevato da ogni questione se un domani ci dovesse essere una violazione la colpa è del fornitore questo non è assolutamente vero perché perché se io so già a priori che nonostante ciò che è contenuto a livello contrattuale vi siano degli eventi per cui comunque non è nel dominio del fornitore di poterli andare a gestire io comunque non ho nessuna copertura dal punto di vista della responsabilità anzi io forse ho anche una responsabilità aggravata perché ho messo la testa sotto la sabbia al contrario da dove io abbia un coordinamento di quello che è l'approccio globale nel trasferimento del dato quindi prevedo contrattualmente che vengono adottate delle misure che quelle misure siano tecnicamente a garanzia vedi il tema della cifratura della criptografia che vi sia la chiave di che permette poi di leggere quei dati cifrati detenuti in Europa e detenuti in una modalità tale per cui vi è un processo una misura organizzativa per poi andarli a leggere in chiaro evidentemente io una tutela sostanziale in quel momento la sto raggiungendo poi ci sono altre misure ovviamente bisogna anche dire che laddove io abbia questa certezza di poter raggiungere una misura sostanziale non dovrò andare a interlocuire con l'autorità di controllo altrimenti mi dovrò rivolgere all'autorità garante in materia di trattamento dati perché evidentemente dovrò capire o dovranno essere fatte le valutazioni di bilanciamento tra quello che può essere il danno che riceve il dato nel non essere trasferito e quello che può essere la vulnerabilità alla quale viene esposta al dato stesso nel momento in cui abbiamo un trasferimento senza le garanzie apposite del regolamento europeo ci aspettiamo ovviamente che in qualche maniera questa raccomandazione poi venga esplosa dal legislatore europeo perché sono raccomandazioni che di per sé non sono sufficienti per risolvere i programmi per approcciarlo dall'altra bisogna dire anche questo già nel 2018 quando è uscito il regolamento europeo io ho partecipato a Washington a quella che era la convention internazionale degli esperti in materia di privacy i consulenti americani erano estremamente preoccupati dall'arrivo del regolamento europeo proprio per questa impossibilità di adottare dei principi paritetici a quanto contenuto all'interno del regolamento e queste non sono delle conseguenze meramente normative queste sono conseguenze sul business sulla prestazione dei servizi sulla potenzialità di sviluppo delle relazioni e dei rapporti a livello estraeuropeo tanto che già all'epoca si faceva strada una normativa privacy molto più vicina alla nostra normativa europea a livello californiano fu il periodo in cui tra l'altro appunto il fondatore di facebook si presentò al congresso andando a giustificare determinate azioni sui dati che erano state eh portate avanti dal da questo social network che insomma ha scatenato non poche eh non poche problematiche in merito a un tema di privacy quindi c'era un'attenzione molto alta a quelli che potevano essere effettivamente le conseguenze oggi qual è il panorama oggi ci si aspetta che gli Stati Uniti comunque vadano verso la direzione di un'adozione di una normativa molto simile ma il problema ad esempio oggi si pone ancora più accentuato è chiaro ora siamo tutti dietro ad un tema di covid ma si pone molto più accentuato anche in seno all'Unione Europea noi abbiamo avuto con la Brexit l'uscita eh di un paese con il quale ci sono delle forti relazioni ehm da un punto di vista di gestione dei dati quel paese che ora diciamo andrà ad adottare sicuramente delle norme simili alle nostre per avere minore incidenza anche da quel punto di vista nei rapporti delle relazioni economiche e finanziarie ad oggi trasferimenti data server eh data center a Londra trasferimenti verso la società all'ordinezza e altro beh abbiamo un problema di trasferimento fuori da confine europei quindi si pongono esattamente gli stessi principi che abbiamo rinvenuto e trovato rispetto a quanto stabilito dalla sentenza emanata in luglio per cui questa raccomandazione questi punti della raccomandazione dei quali stiamo parlando si ripercuotono anche su quello ehm che sta avvenendo e che è successivo al tema della Brexit quindi da una parte ci stiamo aspettando che comunque gli Stati Uniti comincino ad adottare anche delle soluzioni seguendo un po' anche sulla scia l'esempio della normativa californiana rispetto ad una normativa privacy vicina a quella europea ma culturalmente ci sono delle resistenze molto forti perché comunque veniamo da principi molto diversi in Europa serve una normativa di tutela del trattamento dei dati per gli americani l'informazione il dato è la proprietà di chi lo ritiene per noi è molto concentrato sull'interessato quindi ci sono anche dei punti di vista di contrasto storicamente culturale molto forte per cui sarà molto difficile di arrivare in tempi piuttosto brevi ad una soluzione conciliante una normativa assimilabile a quella europea per cui ci dovremo confrontare con queste soluzioni diciamo che poi non saranno neanche tanto transitori evidentemente dovranno essere ragionate bene tanto più che la stessa raccomandazione prevede comunque che vi sia quello che vi dicevo prima un tema di periodicità perché comunque bisogna in qualche maniera monitorare e tenere sotto controllo quella che può essere un'evoluzione l'esempio è se io parlo da un punto di vista tecnico dell'adozione di una cifratura potrei avere anche un'evoluzione rispetto alla solidità di quella modalità di cifratura di protezione della misura organizzativa quindi non posso avere una staticità totale una volta fatta l'operazione di alimenti con qualità di rettitolare del trattamento che i dati stanno fuori dal confine europeo e mi affido al fatto che nel momento in cui ho fatto una fotografia ho fatto un trasferimento ero comunque in una norma per cui questo monitoraggio diventa essenziale ricordiamo tra l'altro molto importante che basandosi il regolamento europeo su un principio di accountability prevede espressamente che vi sia una tracciabilità delle riflessioni e delle azioni possano essere dal titolare per la tutela del trattamento dei dati in questo ambito la tracciabilità vuol dire rispetto alla raccomandazione al trasferimento fuori dai confini europei evidentemente devo avere comunque una storicizzazione di quella battatura che sono andato a fare delle scelte che ho operato oggi potrei avere l'evidenza di aver interrotto dei rapporti contrattuali ed aver acquisito un nuovo fornitore rispetto a quelli presenti prima del luglio 2020 oppure di aver adottato delle misure di cifratura specifiche a protezione di quelli che sono i dati cioè di avere comunque una storicizzazione e una tracciabilità dei ragionamenti e delle azioni possene essere paradossalmente noi abbiamo avuto comunque anche delle grandi aziende che hanno sede negli Stati Uniti e che hanno dei commerci importantissimi con gli Stati Uniti in cui siamo dovuti andare a ragionare in maniera anche brutale dicendo ok se io però ora vado a applicare questa normativa io stoppo completamente il mio business quindi devo avere dei tempi di reazione mediati tra rispettare una normativa ma poter anche adeguare tutto il tema della struttura informatica della protezione dell'organizzazione dei dati del flusso perché poi c'è un tema anche di organizzazione dei flussi a quella che è la nuova normativa e molte aziende sono scelte che non hanno posto in essere nell'assenza di precisazioni del legislatore europeo cioè questa assenza ora è intervenuta la raccomandazione ma in gran parte dei casi è stata letta come allora un attimo prima di prendere una posizione fare degli investimenti andare a risolvere dei contratti capiamo effettivamente quello che possono essere le evoluzioni in merito a questo trasferimento dei dati fuori dai confini europei quindi da questo punto di vista qual è oggi diciamo la fotografia allora sicuramente ogni titolare del trattamento se oggi dovesse arrivare un controllo di una guardia di finanza o dovessero essere in qualche maniera sollevate delle eccezioni rispetto alla a quella che è la normativa vigente dovrebbe aver mappato i propri dati verificato dove vi ha un trasferimento extra europeo valutato anche rischi rispetto al trasferimento perché come vi dicevo è comunque una violazione ma lo valuto probabilmente anche sulla base della tipologia dei servizi che ho adottato che ho sottoscritto ovviamente verificate le soluzioni laddove facilmente attuabili che possono essere anche una risoluzione contrattuale sicuramente approntato i nuovi progetti andando ad escludere di infilarsi con i nuovi progetti in accordi di trasferimento dati extra europei in assenza di garanzia perché da un punto di vista legale se oggi mi arriva un controllo e da una parte perché io non sia norma posso andare a dialogare interloquire comunque proporre una linea defenzionale laddove magari io ho in essere dei trasferimenti dati da dieci anni e vado a scardinare il mio business nel momento in cui dovessi interromperli come conseguenziale alla sentenza è una posizione con la quale si può andare a sostenere una linea se io dovessi andare a subire un controllo e vedere il trasferimento è stato iniziato a dicembre 2020 perché se ho fatto un nuovo progetto beh probabilmente io non ho molte pezze d'appoggio da un punto di vista legale per andare a giustificare il trasferimento del genere quindi benché in entrambi i casi ci sia una violazione sicuramente ha un peso diverso nel momento in cui si va a interrompire con l'autorità di controllo quindi queste sono attenzioni che vanno prezzate quindi molta molta cautela rispetto a quelli che possono essere i nuovi progetti le nuove iniziative i nuovi trasferimenti e ricordo ed insisto abbiamo parlato oggi di privacy shield degli Stati Uniti ma non è solo un tema degli Stati Uniti quindi la mappatura la verifica su quelli che possono essere i paesi di destinazione riguarda integralmente tutti i paesi fuori dai confini europei allora io ho terminato il mio intervento spero di essere stata molto chiara non è diciamo banale questa sentenza non è assolutamente banale da un punto di vista pratico è piuttosto impegnativa no panico perché tanto la razio è sempre quella appunto di andare a capire con quali carte stiamo giocando quindi che cosa abbiamo in casa e raccomando anche di non pensare mai ma io sono una piccola azienda oppure sono la grande azienda che avendo grandissimi interessi allora alla fine posso in qualche modo andare in derogation questa è una normativa che vale per tutti poi avrà delle proporzionalità diverse però attenzione anche alle sanzioni perché qui si parla di sanzioni che vanno dal 2 al 4% del fatturato da 10 milioni a 20 milioni di euro di sanzione quindi non si sta parlando di aspetti di natura di natura banale io ho condiviso ora poi lascio la parola alla collega di laboratori aperti ho condiviso condivido con voi la slide l'ultima slide in cui sono presenti i prossimi incontri dove andremo appunto ad approfondire delle tematiche in ogni incontro in ambito di diritto informatico dalla sottoscritta direttamente piuttosto che dagli altri colleghi di Collin & Partners vi lascio nelle slide anche alcuni riferimenti ai nostri servizi interrompo la condivisione del dello schermo e passo la parola alla collega eccoci grazie mille intanto avvocato Frediani intanto ci sono un paio di domande c'è una ragazza che ci ha scritto sta formulando una domanda quindi se per te non è un problema aspettiamo questa domanda e intanto ah ecco ok ci chiede nel caso delle multinazionali che pur avendo sedi in UE e pur garantendo che i dati siano fisicamente all'interno dell'UE sono comunque in un certo qual modo soggette alla disciplina del paese della casa madre americana si rientra nella disciplina illustrata del trasferimento hai il microfono disattivato sì scusami allora se i dati sono fisicamente all'interno della comunità europea si applica il regolamento basta quindi non la domanda sembra viceversa cioè se i dati dagli Stati Uniti vengono verso l'Europa se i dati dagli Stati Uniti vengono verso l'Europa e la normativa americana non impone regole diverse io applico la normativa europea il nostro problema è quando i dati dall'Europa vanno verso gli Stati Uniti che è un'altra storia ok ok e vediamo se c'è una risposta intanto mi chiedevo visto che appunto come come si diceva nelle conclusioni non si parla solo di Stati Uniti ma di extra europea insomma e se avessi un servizio in cloud a San Marino dovrei comunque adeguarmi extra europeo quindi devo sempre extra europea San Marino Svizzera diciamo che anche se geograficamente all'interno del nostro territorio assolutamente sì quindi da questo punto di vista quando dico facciamo la mappatura non diamo per scontato perché ho sentito tanti nelle aziende ma io sono sicuro che non ho dati fuori dai confini europei poi si va a vedere i contratti si va a vedere soprattutto i subformitori e è difficile oggi essere integralmente nazionalizzati o europeizzati quindi assolutamente sì bisogna andare a valutare il fatto che sia un trasferimento a castello europeo ok e se non riesco a sapere dove sono i dati per esempio se non riesco è un grosso problema una forte responsabilità quindi non è ammissibile per il legislatore perché una delle garanzie che deve essere prestata nei confronti degli interessati è proprio la tracciabilità e in trasparenza comunicare all'interno dell'informativa quali sono i paesi destinatari o chi sono i soggetti che possono intervenire al trattamento il titolare che non sa dove sono i dati è un titolare che non è a norma quindi è sanzionabile e allora non ci siamo per cui dovrò ritirare le fila andare ad esigere dai miei fonditori di sapere l'allocazione dei dati e nel caso in cui non mi venga comunicato potrebbe essere anche un motivo di risoluzione del contratto ok grazie mille direi che rispondeva la ragazza ok ma sembra che le multinazionali debbano comunque sottostare alle richieste delle autorità governative americane pur avendo i dati in UE sì ma in realtà nel momento in cui ho i dati in comunità europea si torna a quelle regole della raccomandazione perché io comunque quei dati posso scifrarli perché io quei dati posso proteggerli perché comunque ho delle porte di eventuale apertura di quelli che sono i dati e quindi dovrò andare a incidere su quella che è la mia struttura informatica per cui comunque io potrò andare a proteggerli perché non è un tema di non accessibilità è un tema di trasparenza sull'accessibilità ai dati di protezione e di valutazione poi di esercizio dei diritti quindi io nel momento in cui sono a livello europeo tecnicamente dovrò e potrò adottare delle misure perché comunque quei dati siano potenti ok in attesa ovviamente prego in attesa ovviamente di avere anche maggiori delucidazioni dall'autorità europea perché comunque i giochi diciamo sono ancora aperti da questo punto di vista va bene allora se non ci sono altre domande che al momento non sembra io ringrazio tutti i partecipanti ringrazio ovviamente l'avvocato Frediani per questo incontro e appunto vi ricordo il prossimo che è martedì 26 si parlerà appunto degli auditi obbligatori da fare sui fornitori e potete trovare tutte le informazioni sia sul sito di Collin & Partners che è del laboratorio aperto di moda e grazie a tutti buona giornata e arrivederci buona giornata salve grazie grazie a tutti